Fissata la data per l'arrivo del Premier Giorgia Meloni, sarà in Molise il prossimo 25 marzo per la firma dell'accordo di coesione. Contrasto alla peste suina in Molise, sequestrati dai carabinieri del NAS, oltre 600 capi di bestiame, multe per 370 mila euro. La conferma da Roma per le comunali di Campobasso, il centrodestra si giocherà la carta pallante e lui si prende qualche giorno per riflettere. Capitale italiana della cultura, Saia, il nostro dossier non aveva nulla da invidiare al vincitore, realizzeremo comunque gran parte dei progetti. Nel pomeriggio di ieri il Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, Rosario Valastro, a Isernia in visita al comitato locale, grande partecipazione dei volontari. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di TV Molise, lo avete sentito dai titoli, fissata la data per l'arrivo in Molise della Premier Giorgia Meloni arriverà il prossimo 25 marzo, quasi sicuramente a Campobasso, bisogna ancora in realtà decidere la location per la firma dell'accordo di coesione, sviluppo tra il Governo centrale e la Regione subito dopo la firma. In Molise partenza per la Basilicata, dove apporrà la firma sotto l'analogo accordo con il Presidente Lucano Bardi. Giorgia Meloni arriverà in Molise con il Ministro Fitto e l'accordo sarà firmato da lei e dal Presidente Roberti, alla presenza dell'assessore alla programmazione Iorio, che ha gestito l'intensa fase di preparazione dell'accordo con Roma, che prevede investimenti nella nostra Regione per quasi 450 milioni di Euro di fondi per lo sviluppo e la coesione territoriale. E ora spazio alla cronaca, contrasto alla peste suina in Molise, sequestrati dai carabinieri del NAS, oltre 600 capi di bestiami in un'azienda zootecnica per un valore complessivo di 370 mila Euro, accertato anche lo smaltimento illecito di carcasse di animali. Sentiamo tutti i particolari da Cristian Ciarlante. I carabinieri del NAS di Campobasso, nell'ambito di controlli mirati per il contrasto alla diffusione della peste suina, hanno controllato diverse aziende agricole nelle province di Campobasso a Isernia, con allevamenti suinicoli e macelli, avvalendosi della collaborazione di personale medico del servizio veterinario dell'ASREM. Nel corso della verifica, presso un'azienda zootecnica, sono stati posti sotto sequestro 630 capi di bestiame, tra pecore e capre, per un valore di 370 mila Euro, poiché non identificati e potenzialmente infetti, in quanto non sottoposti a profilassi sanitaria. È stato accertato inoltre anche lo smaltimento illecito di carcasse di animali, per cui è stata disposta la bonifica dei terreni. In 5 allevamenti di maiali sono state accertate carenze strutturali relative alle misure di biosicurezza preventiva alla peste suina africana e in 12 stabilimenti di macellazione sono state accertate carenze igienico-sanitarie strutturali, nonché la non corretta applicazione della normativa europea volto a tutelare il benessere animale. In un caso, inoltre, è stata disposta l'immediata sospensione di un deposito di carne, poiché non registrato all'autorità sanitaria e privo dei requisiti minimi obbligatori. Per le violazioni accertate sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 57 mila Euro. I titolari delle attività sottoposte a controllo sono stati inoltre segnalati alle competenti autorità sanitarie ed amministrative. Riconversione del sito Unilever di Pozzilli. Il prefetto di Sernia, Franca Tancredi, smentisce le indiscrezioni sulla bocciatura da Invitalia. L'iter prosegue. Ci dice tutto Domenico Marzocchelle. Riconversione industriale dell'insediamento Unilever di Pozzilli. L'iter va avanti. Da Venafro a distanza di qualche ora, dal tavolo con i sindacati, il prefetto di Sernia, Franca Tancredi, spegne i rumors arrivati da Roma circa la possibile bocciatura del progetto P2P. Sembrano arrivare preoccupanti indiscrezioni da Roma. Cosa possono fare le istituzioni? Allora, le istituzioni stanno facendo tanto, se non altro perché c'è un'attenzione da parte del Mimit e da parte di Invitalia. Non parliamo di vertenza, parliamo di progettualità per un futuro e per dare la possibilità a quelle 60 famiglie che oggi sono in cassa integrazione, ma non da oggi, ma da ieri, possano ritornare a lavorare e a produrre in un'area che probabilmente risente di tante criticità, ma che ha tante capacità per poter risorgere. C'è un'attenzione da parte del Mimit e da parte di Invitalia. Ieri mi sono sentita con Invitalia dopo l'incontro che abbiamo avuto e l'iter sta proseguendo. Non possiamo dire che vi sia stata, come ho sentito, alcune indiscrezioni anche sulla stampa che le progettualità presentate sono state bocciate. Niente di tutto questo. L'iter prosegue. Gli investimenti ci sono. L'interesse da parte del Governo centrale a investire in quest'area ci sono. Quindi dobbiamo essere fiduciosi, sempre con i piedi per terra, ovviamente, e nell'ambito di un confronto che sia sempre comunque trasparente. Momenti di grande paura sono stati vissuti a Termoli, dove i carabinieri hanno salvato la vita di un giovane di 29 anni che ha minacciato di lanciarsi nel vuoto da un'altezza di 20 metri. Ancora Cristian Ciarlato. Momenti di grande paura sono stati vissuti a Termoli questa mattina, dove i carabinieri hanno sventato un tentativo di suicidio da parte di un ragazzo di 29 anni della provincia di Campobasso, che salito sul muraglione di via Federico II di Svevia, minacciava di lanciarsi nel vuoto da un'altezza di circa 20 metri. Il giovane è stato subito avvicinato dai militari, che dopo essere riusciti ad afferrarlo, riportarlo all'interno del parapetto e porlo in condizioni di sicurezza, lo affidavano alle cure del personale medico del 118. Nel corso delle ultime ore, inoltre, i carabinieri di Termoli, alla guida del Maggiore Alessandro Vergine, hanno effettuato un controllo a tappeto del territorio, che ha interessato i comuni di Petacciato e Montenero di Bisaccia. Controlli finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e, in particolare, i furti in abitazione e di auto. L'istituzione di numerosi posti di blocco lungo le principali arterie di accesso ai comuni interessati hanno permesso di controllare 53 veicoli e identificare 63 persone. Effettuate anche tre perquisizioni, di cui una veicolare e due personali, controllati cinque esercizi pubblici e sei persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Elevati, infine, quattro verbali ad altrettanti conducenti di autoveicoli, per contrastare infrazioni al codice della strada, per importi pari a 325 euro, nonché ritirata una patente di guida. Torniamo a occuparci dell'8-0 dell'Isernia Castel di Sangro, dopo la sentenza del Tar Molise che ha accolto il ricorso del Comune di Isernia e del WWF. Ecco gli scenari che si profilano all'orizzonte. Tiziano Di Clemente, il Tar ha accolto il ricorso del Comune di Isernia e del WWF riguardo all'8-0 dell'Isernia Castel di Sangro. Ora che cosa succederà? Insieme al Comitato non l'8-0 noi abbiamo spinto il Comune a fare questo ricorso, abbiamo avuto ragione. Adesso l'ANAS, in base alla sentenza del Tar, è messo nella condizione di dover annullare gli atti di gara, perché il Tar ha detto che in assenza della valutazione di impatto ambientale, che infatti è stata annullata perché è illegittimo l'atto regionale, i lavori non possono proseguire, non si sono mai visti lavori che possono farsi senza valutazione di impatto ambientale. Quindi diffideremo l'ANAS ad annullare gli atti di gara e quindi se l'ANAS non lo farà, faremo anche un esposto alla Procura della Repubblica. Ci saranno danni erariali da risarcire, anche su questo ci attiveremo. Si tratta di un'opera inutile e dannosa, vogliamo che questi decine e decine di milioni vengano quindi salvati da questo saccheggio erariale ed ambientale e vengano utilizzati per le opere utili che ci negano, tipo per esempio il tratto colli Roccaravindola che va messo a posto a proposito di collegamenti tra Castel di Sangro e il Tirreno. Oppure la Bretella di Venafro, il Ponte Sende, le Frane, ma se andiamo ad estendere il discorso è una follia, sperperare tutti questi milioni per un'opera che risultata anche illegittima e invece ci tagliano gli ospedali, le scuole, i servizi essenziali. Fratelli d'Italia conferma la scelta di Pallante quale candidato sindaco per il centrodestra a Campobasso, il tavolo convocato a Roma da Donzelli con la presenza dei dirigenti regionali del partito. Quintino Pallante ha preso qualche giorno per sciogliere la riserva. Vediamo il servizio di Francesco Adano. Mancava il terzo tassello in assi di partenza per definire il quadro dei candidati a sindaco della città capologo di regione, il tassello dell'uomo rappresentativo del centrodestra ed il dubbio è stato sciolto ieri, si tratta come ormai era nell'area da giorni di Quintino Pallante. Il partito nella riunione romana di ieri pomeriggio ha superato ogni indugio ed ha chiesto a Quintino Pallante di scendere in campo. Resta ancora un margine minimo prima della designazione ufficiale perché Pallante ha chiesto qualche giorno di riflessione, ma visto che aveva già espresso la sua volontà ad accogliere la richiesta nei precedenti incontri non dovrebbero esserci dubbi. C'erano i massimi esponenti del partito regionale. Ieri nella sede di via della Scrofa la presenza di Giovanni Donselli, responsabile degli enti locali, oltre a Quintino Pallante erano presenti i consiglieri regionali Iorio, Micone e De Giglio, i parlamentari della Porta e l'Ancellotta ed il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Filoteo Di Sandro. Sulla scelta di Pallante dovrebbero convogliare le anime del centrodestra senza defezioni, almeno questa è la percezione, ma si sa in politica non bisogna dare nulla per scontato. Capitale Italiana della Cultura 2026, il giorno dopo la vittoria dell'Aquila. Il sindaco Sai analizza la sconfitta di Agnone, il nostro dossier non aveva nulla da invidiare al vincitore. Realizzeremo comunque gran parte dei progetti. Sentiamo questa intervista. Sindaco, all'indomani della decisione sulla Capitale Italiana della Cultura 2026, che sarà l'Aquila, si può parlare di sconfitta per Agnone? Ma no, io non parlerei di sconfitta. Intanto questo è stato, abbiamo sempre detto, un sogno che man mano che siete andati avanti si avvicinava sempre alla realizzazione. Lo abbiamo vissuto intensamente fino alla fine. Facciamo i complimenti all'Aquila perché si sa benissimo che quando ci sono delle sfide c'è un vincitore, è uno sconfitto. Però la nostra, dico, non è una sconfitta perché questo processo che ci ha portato a questa finale ha visto una partecipazione di una regione, ha visto la redazione di un bellissimo progetto coinvolgente di tutte le, non solo gli enti, ma anche delle attività economiche, dei cittadini, delle associazioni e questo è un valore assoluto che noi dobbiamo conservare. Dopodiché il progetto resta. Noi oggi già ne abbiamo parlato con il Presidente Roberti, anche il Ministro in sede di aggiudicazione della Capitale della Cultura, ha detto che tutti i nuovi progetti che sono risultati non vincitori verranno in qualche modo finanziati. Siamo alla luce di una nuova programmazione regionale, quindi speriamo che si dia forza a questo lavoro, anche perché non è nell'interesse di Agnone, come abbiamo sempre detto, ma è dell'intera Regione Molise. Ecco, un dossier, come ha detto lei, che deve diventare realtà, ma un dossier che comunque ha catturato l'attenzione di tantissime persone fino a questo momento. Sì, assolutamente. Non è un mistero che è sicuramente tra i dossier più belli che sono stati presentati, anche perché non solo il claim che era stato individuato era un claim fortissimo, quindi fuoco dentro, riferito alle nostre tradizioni, in margine al centro, proprio per ridare forza, speranza e coraggio a tutti coloro che vivono nelle aree interne, che poi è stata la giustificazione che è stata data nell'assegnazione all'Aquila. Quindi noi abbiamo preso bene tutti gli elementi essenziali che la nostra candidatura doveva avere e noi però proseguiamo su questo. Si è parlato del ruolo delle donne nella politica e nelle istituzioni questa mattina a Campobasso nella biblioteca del Consiglio regionale, presente la portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche. Vediamo il servizio di Francesco Adamo. Nella biblioteca del Consiglio regionale questa mattina incontro con Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, per parlare del ruolo delle donne nella politica, uno spazio in cui le donne si inseriscono ancora con difficoltà. Presenti, giovani militanti, donne impegnate nel sociale, al tavolo delle relatrici, la candidata sindaco per i progressisti, Maria Luisa Forte. Si parla del ruolo della donna in politica, immagino. Troppo poche e pochissime ai vertici delle istituzioni. Questo è un elemento che ci dice ancora quanta, purtroppo, discriminazione esiste in politica e nelle istituzioni, ma appunto le risorse tante femminili che sono nella società devono riprendersi un protagonismo. Perché? Perché la politica deve sempre essere più vicina ai bisogni delle persone e se la politica interpreta e risolve i problemi delle donne, risolve i problemi della società tutta. Ecco perché noi abbiamo bisogno di tante donne ai vertici delle istituzioni, abbiamo bisogno di tante donne che rappresentino la verità di una società che è ancora troppo diseguale. Ecco perché la conferenza delle donne democratiche vuole, nel suo piccolo, stimolare un dibattito, responsabilizzare tutti coloro che hanno responsabilità politiche pubbliche e perché no cambiare un po' il mondo. Perché se i tempi sono maschili, l'organizzazione è molto al maschile e le responsabilità di cura gravano solo sulle spalle delle donne, è chiaro che diventa molto difficile poter conciliare tutto. Invece bisogna condividere le responsabilità di potere, le responsabilità pubbliche e quelle familiari. Stipendi sempre più bassi e maggiore precarietà. L'USB lancia una piattaforma per una riforma del pubblico impiego. L'iniziativa è presentata nella Sala Gialla della provincia di Sernia. La pubblica amministrazione che vogliamo è questo il nome della piattaforma ideata e promossa dall'USB per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. L'iniziativa è stata presentata stamane nella Sala Gialla della provincia di Sernia. L'obiettivo è quello di proporre riforme in grado di incidere in maniera determinante sul mondo del lavoro. Non solo un incremento delle assunzioni, ma anche un salario più adeguato ai costi della vita attuale. Questo quanto viene chiesto al Governo. La narrazione dei lavoratori pubblici considerati come dei privilegiati deve finire, fanno sapere dal sindacato. Oggi questi dipendenti devono fare conti con condizioni lavorative e sociali sempre più precarie. Per questo motivo sono sempre di più che decidono di dimettersi o di non accettare il cosiddetto posto fisso. Gli economisti ci dicono che quando il pubblico funziona, quando il settore è ben curato, poi ovviamente i cittadini ne giovano. Negli ultimi anni abbiamo avuto la colpevolizzazione dei servizi pubblici, fannulloni. In realtà non è affatto vero. È una narrativa totalmente distorta. Noi in Italia, rispetto ai paesi europei come la Germania e la Francia, abbiamo una percentuale di lavoratori pubblici decisamente inferiore. Volgendo lo sguardo alla realtà regionale, i Molise, sostengono sempre dall'USB, sono due settori che vanno maggiormente attenzionati, quello della scuola e quello della sanità. Sta diventando uno sfruttamento. Io parlo per esempio dell'ultimo contratto scuola che istituisce una figura intermedia nei collaboratori scolastici ATA che di fatto si occupa di tutto. E quindi parlo per esempio degli amministrativi che hanno visto aumentare a dismisura le loro mansioni. Imprenditoria, c'è anche Isernia tra le eccellenze italiane, il salone dell'acconciatrice Tiziana Leva nella rete che certifica e valorizza la qualità del Made in Italy. Ci dice tutto, Carla Marino. Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. E' questo il motto raffigurato sulle pareti del salone isernino della Hair Stylist Tiziana Leva, un sogno in cui la nota acconciatrice molisana ha creduto con forza e determinazione fin da quando era bambina. A sei anni, con la madre a farle da modella, si cimentava con bigodini e spazzole. Da allora non ha mai smesso di credere fermamente in quel sogno fino a trasformarlo in una realtà fatta di una lunga serie di successi iniziata con l'apertura del primo salone a Fornelli 31 anni fa a cui ha fatto seguito quello di Isernia circa 13 anni fa e a cui si aggiunge oggi l'inserimento nel circuito delle eccellenze italiane. La rete che certifica e tutela gli elementi di spicco del Made in Italy, un attestato importante che testimonia la qualità, il valore, il talento e l'innovazione delle aziende e delle imprese che rappresentano un fiore all'occhiello per il bel paese. Accanto a lei in questo percorso una partner speciale, la sorella Yolanda, al suo fianco fin dall'inizio, che oggi gestisce l'Eir Studio di Fornelli. È con lei, afferma Tiziana Leva, che desidero condividere la gioia di questo nuovo traguardo, una compagna impeccabile e insostituibile. Ricevere le insegne delle eccellenze italiane, aggiunge l'acconciatrice, naturalmente è per me motivo di orgoglio, soprattutto perché è una testimonianza di ciò che rappresenta per me il mio lavoro, cioè uno strumento che ci consente di dimostrare che quando si va avanti con costanza si può arrivare in alto. E per lei è proprio questa, ovvero la forza di crederci sempre, senza vacillare, la ricetta per il successo in campo professionale. Grande dedizione, grande talento, che da sempre la contraddistinguono e che la supportano insieme al suo impeccabile staff nelle sfide di tutti i giorni. Nel pomeriggio di ieri il Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, Rosario Valastro, a Isernia, è in visita al Comitato locale. Un evento storico perché è la prima volta del numero uno del movimento in Molise. Presidente, buonasera. Buonasera. Una giornata storica per il Comitato di Isernia della Croce Rossa italiana, nel pomeriggio di ieri. La visita del Presidente nazionale, Rosario Valastro, una prima volta del numero uno del movimento in Molise e a Isernia. Valastro, accompagnato dai due vicepresidenti, Deborah Diodati ed Edoardo Italia, sono stati accolti dal Presidente locale Fabio Rea e da numerosi volontari in Divisa Rossa, un'iniziativa, quella di ieri, che si inserisce tra le celebrazioni per i 160 anni del Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. L'Assemblea ha avuto inizio con un breve filmato che ha presentato le attività svolte dal Comitato locale, nonché le bellezze culturali e paesaggistiche della provincia di Isernia. Durante l'incontro, inoltre, i delegati locali hanno avuto l'opportunità di illustrare le numerose iniziative svolte nell'ambito sanitario, sociale, dell'emergenza e più in generale a sostegno della cittadinanza, mostrando la vitalità e l'efficacia dell'azione della Croce Rossa di Isernia. Ho riscontrato una grande passione del volontariato, una grandissima emozione nel vedere come ogni volontario, e ogni volontario nei comitati della Croce Rossa italiana riescono ad adattare l'azione umanitaria a quelli che sono i bisogni della collettività, anche con delle soluzioni che possono sembrare fantasiose, ma cariche per l'appunto di umanità. Tra l'altro la mia emozione è perché è la prima volta mia come uomo di essere qua a Isernia, ma credo che sia la prima volta in un presidente nazionale della Croce Rossa italiana, quindi lo faccio davvero con grande piacere. Al termine dell'Assemblea, il presidente Valastro è stato omaggiato con una tradizionale lavorazione a Merlitto e un volume sulla storia della provincia di Isernia, simboli dell'accoglienza e del patrimonio culturale del territorio. La giornata si è conclusa con un momento conviviale che ha permesso al direttivo nazionale di immergersi ulteriormente nella realtà e nell'atmosfera unica della crisernia. Ed ora un'anteprima di quello che sarà il weekend calcistico molisano con il nostro Michele Visco che ci dice tutto sugli incontri in programma in Serie D, Girone F ed Eccellenza Molisana. In campo per la Serie D, giornata numero 27, Alma Juventus, Fano, Campobasso, Football Club, Avezzano Calcio, Football Club, Matese, Fossombrone, Chieti, Roma City Football Club, Vigo, Senigaglia, San Benedettese, Notaresco, Soracalcio, L'Aquila, Archivo di Calcio, Tretico Ascoli, United, Riccione, Real Monterotondo, Vasto Girardi, Calcio Termoli, 1920. Eccellenza, la giornata è la numero 25, Aurora Alto Casertano Polisportiva Fortore, Calcio Virtus Gioiese, Difesa Grande Termoli, Campomarino, Olimpia Agnonese, Castelli Sangroceppo, Boiano, Tretico San Pietro in Valle, Gliternina, Real Guglionesi, Sesto Campano, Calcio Turris di Palimosani, Venafro, Città di Isernia, San Leucio. Bene, il telegiornale finisce qui, non mi resta che dare la linea ai colleghi dell'Aquila, grazie per averci seguito l'appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale.